buonasera allora sembra che possa essere la volta buona per todiboh sembra è perché ce lo siamo già detti un sacco di volte però però le indicazioni sembrano piuttosto positive nel senso che c'è stata un'altra missione della juve in francia per parlare con l'entourage del giocatore personalmente anche parlato giuntoli e sembra si stia trovando la quadratura del cerchio come si dice in questi casi allora era una questione di obbligo di riscatto che la juve vuole rendere più agevole diciamo per venire incontro al al nizza i termini esatti di questa agevolazione non si conoscono nella diciamo trattativa precedente si era parlato di un 70 per cento di presenze di todiboh in stagione e del raggiungimento della champions league anche per la stagione 2025 2026 si vuole ulteriormente facilitare il maturare di queste condizioni in modo tale da avere a disposizione al più presto todiboh averlo in rosa prima che cominci il campionato ma il vero problema voi sapete benissimo si al di là del fatto di dover ampliare la rosa e vedrete che succederà al tempo stesso è quello di cedere alcuni giocatori che sicuramente pesano dal punto di vista economico e che dirimando diciamo guardando il bicchiere mezzo pieno potrebbero invece portare alla juve delle casse della juve delle discrete somme di denaro ora qui si è fatta una stima diciamo così approssimativa sulla base del valore determinati giocatori e si è arrivati a concludere che cedendo i vari artur rugani de sciglio scesni costic mckenny e quant'altro insomma la juventus potrebbe incassare potrebbe incassare una cifra vicina ai 90 milioni chiesa stesso dopo parliamo anche di chiesa chiesa stesso potrebbero incassare svariati milioni arrivare più o meno 4 90 è chiaro che ci si basa su un valore stimato dei calciatori però quando leggo che il valore stimato di artur è attorno ai 18 20 milioni allora mi viene un po il dubbio che questo possa essere il valore effettivo di questo giocatore che ha dimostrato davvero poco una volta che ha lasciato il barcellona e che credo che la juventus sarà costretta in un certo qual modo a svendere sempre che riesca a piazzarlo ad un'altra società con la formula della cessione definitiva perché faccio molta fatica a pensare che la juve riesca a fare questo il suo contratto scale del 2026 da dove fare un esempio e quindi la juve ancora una discreta forza contrattuale per faccia fatica a pensare che altro possa essere ceduto che qualcuno e qualcuno possa acquistare artur a 18 20 milioni veramente faccio molta fatica per esempio un altro un altro valore di un giocatore di 13 milioni così stimati ed è quello relativo a shesney in arabia salute offrevano 5 6 milioni quindi ragazzi bisogna stare molto attenti ecco è chiaro che se in queste cifre sono considerate anche sono considerati anche gli ingaggi e per lo meno di quest'anno allora tra posso credere che tra eventuali cessioni o risparmi di ingaggi si possa raggiungere quella cifra lì ma semplicemente come valore di cartellino faccio molta molta fatica a pensare che la juve possa raggiungere queste cifre c'è poi quella relativa appunto a federico chiesa che si aggira si attesta tra i 20 e i 25 milioni ma anche in questo caso ce lo siamo detti più volte per realizzare per non realizzare la minusvalenza ancora una cifra almeno di 14 milioni e mezzo circa la juve si accontenterebbe anche di una cifra inferiore ora si è sparsa questa indiscrezione secondo cui adesso sarebbe starebbe subentrando nelle trattative il padre di federico chiesa cioè erico chiesa che tra l'altro io ricordo anche molto volentieri perché ha giocato nella cremonese di gigi simoni in serie a era un giocatore era fortissimo ed è stato un privilegio averlo alla cremonese lo ricordo molto bene non so se questo risponda al vero sinceramente ma ci sta è però si sta profilando una situazione molto strana ragazzi molto strana c'è una società che sostanzialmente ha preso la sua decisione perché le parole di tiago motta penso che sia stati inequivocabili anche e soprattutto su federico chiesa quindi una società che ha deciso di privarsi di questo calciatore ha deciso che federico chiesa non è più parte del progetto bianco nero e un presunto intervento del padre federico chiesa per provare a ricucire rapporto in sostanza c'è chi avanza l'ipotesi che ricco chiesa possa addirittura licenziare ramadani al quale si sarebbe imputata la volontà di non diciamo considerare positiva la proposta della juve di 5 milioni senza bonus ecco e quindi cercare di ricucire la situazione da parte di ergo chiesa diciamo così accettando la proposta iniziale della juventus però ragazzi la proposta iniziale juventus io ve l'ho già detto un sacco di volte era strumentale per arrivare sostanzialmente ad un no vi ricordate il caso di bala arriva bene lo spiego a un certo punto disse che nemmeno fu fatta una proposta ribasso di bala perché sembrava di offendere il giocatore ne uscì molto bene con questa frase arriva bene diciamo che secondo me non ci ha creduto nessuno e forse ha ragion veduta in questo caso la proposta al ribasso le proposte al ribasso vengono fatte perché sai sai che il 99 su 100 non verranno accettate quindi da un lato tu ti puoi sempre avanzare il discorso che io ho provato a proporgli per me in quel momento lì non era fuori dal progetto e lui mi ha detto di no in realtà ripeto secondo me questa offerta al ribasso è stata proposta al ribasso è stata strumentale per arrivare a farsi dire di no e se risponde al vero l'intenzione del padre federico chiesa di entrare in scena e cercare di ricucire siamo di fronte a sezione molto molto strana e soprattutto molto molto singolare insomma un giocatore che chiede di essere confermato ad una società che ha già deciso di metterlo fuori dal progetto io stento a credere ci sia una possibilità di questo genere ma proprio perché per esperienza purtroppo pluriennale non ricordo casi di questo genere casomai ricordo casi di giocatori che volevano andar via o che minacciano andare via e di società che cercano di accontentarli per tenerli ma il contrario veramente faccio fatica a crederlo non resta che attendere non resta che capire determinati sviluppi dopodiché vedremo di affrontare meglio la situazione certo è che non mi aspettavo un tormentone così anche se sapevo o immaginavo questo lo dicevo anche durante l'europeo che la trattativa la questione chiesa sarebbe risolta in tempi molto lunghi ma questo sarebbe un colpo di scena clamoroso c'è un padre ci sta che voglio fare interesse proprio figlio che sostanzialmente manda all'aria rapporto con un procuratore tra i più importanti del mondo come ramadani dice no adesso ci penso io cerco di riducire rapporto la juventus è chiaro che se mai ci fosse questo tentativo è proprio per confermare quello che vi ho detto oggi che sostanzialmente chiesa non ha ricevuto tangibilmente offerte da nessuna parte e tantomeno l'ha ricevuto da juventus io resto di questa idea dai chiamiamola così iscrivetevi al canale ci vediamo domani ciao ciao ciao